Stiamo parlando del gruppo identitario, va bene, allora tra quanto vi tuffate? E' il tempo che finiamo, con noi che rompiamo le scate. Non c'è bisogno di mettere il marchio su queste iniziative straordinarie, evitiamo di tenerle vincolate, libere, pulite, come sempre. Io nasco radicale, quindi sono trasversale, trasnazionale, anzi pure se volete perché io vado in Coppa. Allora, primo gennaio, questo è uno scoop, Alberto Pedillo fa notizia, è di un dato, anche... Alberto Pedillo, nuova leader di Meridio Valizzi, vai! No, dei franzi in questa casa, visto che si è affatto outing. E' iniziato a portarsi Giacobbini dal lato nostro. Lei l'abbiamo vista nelle foto della chat. Lei è francese, quindi pensate un po'. Ah, allora, bonjour, bien arrivé ici à Naples. Sono dell'ambiente nel cui spero di... Fate un po' di tipo, dai di sparti voi, si tuffano. Fate un po' di tipo. Noi stiamo andando avanti ininterrottamente a questa diretta, in collaborazione con il grande regista Nicola Di Frenna che sta girando queste preziosi immagini. Noi stiamo andando avanti ininterrottamente a questa diretta, in collaborazione con il grande regista Nicola Di Frenna Allora, Salvatore, tuffo, primo anno? Prima volta e spero che ce ne siano molte altre ancora. Speriamo che vada bene almeno il primo, poi ci fai sapere dopo. Quindi leggermente al nord di Napoli? Leggermente al nord di Napoli. Perfetto. Io non sono italiano, sono napoletano, è la cosa più bella che c'è. Noi stiamo andando, è la cosa più bella che c'è.